Cambiamo argomento, finanziamenti in arrivo per oltre 20 milioni di euro al fine di garantire una transitabilità sicura sul viadotto Sente Longo, tra Belmonte del Sannio e Castiglione Messer Marino, struttura chiusa da quasi due anni e mezzo. Presidente, il ponte Sente di Agnone, ma qualcuno non sente? No, no, devo dire che sicuramente è stato un iter complesso che abbiamo seguito in questo anno, anno e mezzo, però siamo a buon punto. Noi abbiamo nelle scorse settimane sottoscritto una convenzione con ANAS con cui noi abbiamo dato incarico sostanzialmente a loro per la realizzazione della progettazione di tutti i servizi tecnici connessi. L'ANAS sta procedendo, soprattutto noi abbiamo dato una priorità nella realizzazione della progettazione, quella di prevedere anche la possibilità nel corso dei lavori, a mano a mano che in qualche modo sarà messa in sicurezza o si avranno comunque delle certezze, la possibilità di riaprire anche solo parzialmente al traffico veicolare il viadotto Sente. E' chiaro che su questo l'ANAS sta lavorando, è chiaro che c'è una questione un po' più complessa che è quella posta dal Ministero delle Infrastrutture nel mese di luglio del 2019 con un parere abbastanza transciante con cui diceva sostanzialmente che l'intero viadotto deve essere messo in sicurezza e quindi non si può intervenire soltanto sul singolo pilone. Questo comporta che vi è la necessità di un finanziamento che potrebbe essere anche di circa 26 milioni di euro. Su questo finanziamento, io ho detto nelle settimane scorse, abbiamo la grande sfida da affrontare. Tutto il mondo politico che segue con attenzione in maniera, devo dire, molto trasversale la problematica del viadotto Sente. Ci sono delle buone prospettive, abbiamo ragionato a livello di governo, a livello di ANAS per cominciare ad attrezzarci rispetto al dopo perché poi avere una progettazione e non avere i denari per poter realizzare l'intervento sarebbe davvero una grossa beffa una beffa soprattutto però per quel territorio perché questo è il punto di partenza e di arrivo che non dobbiamo mai dimenticare. Quel territorio che già vive grosse difficoltà legate al fatto di essere un'area interna, assoluta necessità di quell'arteria, di quel viadotto che mette in collegamento due aree, il Basso Abruzzo e quindi l'Alto Molise, che tra loro hanno scambi sociali, culturali ed economici. Ne stanno risentendo a tutti i livelli in quella zona ed ecco perché deve essere una priorità. Lo è per l'amministrazione che guido e sono convinto che lo possa essere per tutti i soggetti istituzionali che si sono impegnati qualche volta con qualche spinta polemica eccessiva ma questo poi fa parte dei caratteri delle persone sicuramente però sono convinto che l'obiettivo sia condiviso.